Cari amici, stiamo entrando nel luogo del delitto e voi risolverete questo caso, Psyco. Una ragazza è stata assassinata. Dove si trovava nel giorno del delitto 13? Siamo qui per capire chi ha ucciso quella ragazza. L'assassino è qui, in mezzo a noi. All'improvviso dalla mascaglia è uscito un uomo. La vittima è deceduta a causa di un grave trauma cranico nella regione occcipitale. Siamo su di voi. Ha tutta attrezzatura per contadini, per agricoltori. 20 secondi di polio. Vogliamo i risultati dell'analisi della scientifica. Abbiamo trovato una banca sporca di sangue nel sull'amano. Sa come può esserci finita? Quello che stiamo cercando è un lupo. Un lupo. Grazie.